la rovina è un democchio, fatto sbagliato, forse ho fatto un regolato giusto penalizzato e le cose vanno male perché il divorzio si aspetta 5 anni, è veloce, però deve essere giusto, se la persona è brava non deve abbandonarlo perché i bambini, te c'hai i bambini comunque, i bambini nemmeno ti considerano i temi a me, invece uno è un bambino che dice guarda ho sbagliato, io mi do quando ci sono d'accordo, la buona si mette, si comporta bene comunque sei un mito Salvatore te lo dico sul senso, voi bevo papà, te lo dico sul senso con tutte le cose che mi dico, guarda io, mi devo fare a me spazio a me sono una delle politiche delle cose, il male, il divorzio e dopo anche una persona quando è troppo scoccaccio perché tutti i mali della storia sono venuti, questo qui si ragiona bene, questo qui si ragiona bene questi due qui sono la bilancia dell'universo, se quello si ragiona bene prepara un mondo migliore sei un mito Salvatore dai, dai, facciamo bene conosciami bene, domanda a uno se mi sono ti metto su YouTube eh, su YouTube ti metto anche te vuoi andare su YouTube ti metto adesso su YouTube? no? sì, sì, stai giocando male a tutti stiamo benvenendo devi stare molto caldo vedi che mito che sei Salvatore ancora 20 minuti sei un mito Salvatore quella del divorzio è rimasta impressa il divorzio è necessario però quando è fatto regolare però se vuoi per capriccio fare un'ammenda di 10.000 euro e spazio non lo so allora è segreto ma quando fai per capriccio nella discoteca si basca per un giallettone con la macchina leggera che ha rubato i soldi e ruvina le matrimoni ruvina le ragazze bravi